Abbiamo il piacere di ospitare questa mostra itinerante sulla tematica della mafia vista attraverso l'uso del fumetto. Nella mostra vengono rappresentati dei libri che sono stati pubblicati e il bello della mostra è che è una mostra itinerante che approda a Monza dopo essere stata altrove e andrà ancora altrove qui in provincia di Milano. È una mostra che coinvolge molto i ragazzi perché non ci si limita a farla vedere agli studenti che passano ma verrà presentata con visite guidate e non riguarderà soltanto gli studenti e gli ospitarianti perché è prenotabile anche da parte degli studenti delle altre scuole della provincia. La mostra è l'inizio per noi di un periodo in cui avremo tutta una serie di iniziative sulla legalità di tipo completamente diverso l'uno dall'altro che andranno dal terrorismo al rapporto con le case secondariali, la mafia appunto quindi tutta una serie di temi che noi tratterremo con iniziative diverse nelle prossime tre settimane in collegamento anche con il centro della legalità che è la provincia di Monza e l'Università di San Paolo.